...cani che ha una qualità bestiale. Anche questo è un galoppo di macchinoso per essere punta e non si un bel. ... Sì, non lo faccio. Ma voi potete vedere questo? E' un'emperieto! E' un'emperieto! Molto mi piace! Ma voi potete vedere? È un'emperieto! In questo caso si è un'emperieto. E' un'emperieto! Cucata dò su! Acabiamo una foto